Tiziano Ferro è diventato papà oppure è una bufala? Ecco la verità Tiziano Ferro è diventato papà per la prima volta? E questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan dellartista di Latina dopo che questoggi ha spiazzato tutti pubblicando sui social una foto dove lo vediamo stringere tra le sue braccia un bambino di pochissimi giorni Uno scatto decisamente molto tenero ed emozionante che ha fatto subito il giro del web e della rete e che ha commosso i tantissimi fan dellartista HTTPS, barra barra Encrypted TBN0. Statica Com barra Images? Q uguale TBN9GXLKXUXXXVS7BW3UFNXPRO7PN1CVGVMKZW189I79OI1V Colpo di scena, Tiziano Ferro ha avuto un figlio? La foto verità HTTP, barra barra www. Anza IT, barra WebbyMages, barra IMG, sottolineatura 457X, barra 2017, barra A6, barra 9, barra C0, C41EA0 di 9252B198C958B5A82275BC Ilunga PG Sì, perché da diverso tempo Tiziano Ferro rincorre il sogno di diventare padre per la prima volta, in diverse interviste rilasciate anche in queste ultime settimane, lartista ha ammesso che gli sarebbe piaciuto poter avere un figlio al più presto e questo suo grandissimo desiderio pare che si sia confretizzato. In un primo momento, però, dopo la pubblicazione di questo scatto sui social in tantissimi si sono chiesti quale fosse la verità dei fatti, cè chi ha subito pensato che Tiziano fosse diventato papà per la prima volta e chi ha ipotizzato che prima di arrivare a conclusioni affrettate bisognava attendere un po' di tempo, visto che poteva trattarsi di una foto di Tiziano con in braccio un bambino figlio di una coppia di amici. Qual è a questo punto la verità dei fatti? La didascalia postata da Tiziano Ferro a commento della foto pubblicata questa mattina sui social ParlaChiaro. Il cantante, infatti, ha espresso la sua contentezza di questo momento con la frase, la meraviglia assoluta, la quale toglierebbe ogni dubbio al fatto che il bambino sia suo figlio a tutti gli effetti. Ecco la verità su Tiziano Ferro, è diventato padre. HTTPS, barra barra Encrypted TBN0. Statica. Com barra Images? Q uguale TBN9 GCSGTG7V Agmigegx Qxcheghia 8V9R1 ZI e 7CN7 su 2UX7R. In queste ultime ore, inoltre, la notizia è stata confermata anche dal sito web di RTL102. 5. Dove viene rivelato che Tiziano Ferro è diventato papà per la prima volta nella sua vita. Insomma quello che ha postato questa mattina il cantante sui social è la prima immagine dove lo vediamo insieme al suo amato bambino che Tiziano voleva da molto tempo. Un sogno che diventa finalmente realtà per il cantante che in questo scatto mette in primo piano gli occhi dell'amore nei confronti di questo bambino che ha desiderato con tutto se stesso. Un'immagine bellissima che fa commuovere i tantissimi fan del cantante, i quali in queste ore hanno preso d'assalto i suoi profili social per fargli gli auguri. E anche noi porgiamo i nostri migliori auguri a Tiziano e al suo bambino. .